Fedez e Chiara Ferragni continuano a far scandalo sui social.Chiara Ferragni e Fedez è considerata una delle coppie più social del momento I neosposini dopo essersi concessi una mega vacanza alle Maldive continuano a dare scandalo Il cantante Raquel, infatti, ha umiliato completamente sia moglie con una frase da scandalo A quanto pare, sembra davvero che Federico e la sua consorte non vogliono proprio smetterla di far parlare di loro Fedez prende in giro Chiara e le sue cognate.Fedez poche ore fanno, dopo che Chiara ha postato una foto in compagna delle sue sorelle ha scatenato davvero un putiferio L'influencer ha pubblicato uno scatto su Instagram che la ritrae mentre fa una linguaccia e tra i vari commenti degli utenti è spuntato anche quello di suo marito I suoi follower che non smettono mai di seguirla, hanno congratulato la giovane sia per la propria bellezza che per quella delle sorelle, identiche alla Ferragni Fedez con molta ironia le ha scritto, punto l'erocco si predide la lingua, punto parole che hanno suscitato molto sgomento tra i fan della Ferragni, trovandole molto volgari Chiara Ferragni e Fedez una vacanza alle Maldive da 20.000 euro, punto Chiara Ferragni e Fedez per le vacanze di Natale si sono concessi una settimana da Dio La coppia milionaria si è lasciata andare tra sole e mare senza il loro piccolo leone Decisione che ha scatenato sui social una vera e propria polemica, tanto che qualche utente addirittura ha insultato i due di aver procreato solo ed esclusivamente per soldi Secondo alcune news, la Ferragni e Federico avrebbero speso per una settimana alle Maldive ben 20 0.000 euro, tracene di lusso e spese folli Oltre ad avere un maggiordomo a loro completa disposizione, Chiara e Fedez hanno usufruito di un ingresso privato sia per la piscina che per il mare Ho